ciao salve a tutti, brevissimo il video sul platino, grazie allo staff della dominio broker club community di trading, del quale poi vi lascerò il link in descrizione, che ci ha dato in demo la disponibilità della loro piattaforma di uno dei broker che seguono, che è marquez.com esamiamo il platino, abbiamo messo candele weekly, andiamo a portare poi il grafico in primo piano abbiamo messo candele weekly per andare a evidenziare una cosa importante, ossia come a livello di partenze cicliche il mese di dicembre o gennaio, ecco vediamo come anche la piattaforma ci vada a segnalare alcuni spunti interessanti comunque vediamo come nel mese che intercorre sempre tra dicembre e gennaio, eccoci qua dicembre poi eccoci di nuovo qua un altro minimo importante come ripartenza di un ciclo ribassista a dicembre chiusura del nuovo ciclo, eccoci qua di nuovo dicembre 2016 partenza di un nuovo ciclo che si chiude di nuovo con questo minimo importante a dicembre 2017 dal quale poi è ripartita un'altra fase ciclica ora la prima cosa importante da vedere, in questo caso andiamo poi a passare su un time frame daily vediamo che ho selezionato e messo sul grafico una media esponenziale a 200 periodi ed è una media che proprio questo dicembre, come vediamo su weekly con la partenza del ciclo annuale pullback, secondo pullback su questo livello statico, eccoci qua supporto, supporto in quest'area di stata resistenza e attualmente la candela odierna va proprio a testare la EMA 200 quindi siamo in un trend primario rialzista grazie alla partenza ciclica di dicembre e abbiamo avuto due pullback che confermano come area 960 dollari sia sicuramente un'area importante per andare a ipotizzare nuova ripartenza a favore del trend primario con primo target su questo doppio massimo in area 1030 dollari per cui già da lunedì su un'eventuale candela rialzista sarà personalmente ipotetico andare a ipotizzare un trend rialzista con uno stop sotto i minimi della spike della candela di ieri, ok, sotto i minimi quindi in area 954 per andare a prendere i 1030 dollari vi ringrazio, ancora un grazie alla Dominior Braker Club e un grazie a marquez.com buon lavoro a tutti